Per Beppe Grillo si tratta di una truffa, Renzi è il segreto di Stato, l'abbiamo smascherato in mezzo secondo, basta balle, tuona il leader a 5 stelle. Andrea Maggiore, Sky TG24. E ci reganciamo proprio a questo, perché insomma l'accusa più forte è venuta immediatamente proprio da blog di Beppe Grillo. Beppe Grillo che definisce tutto un blef e cita anche Reagan quando promise la verità sugli UFO. Saluto, già lo vediamo collegato con noi, Angelo Tofalo, Movimento 5 Stelle, anche membro del Copasir. Tofalo, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, che cos'è che non convince, al di là delle parole usate da Grillo sul blog, il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la decisione, questa strada, come più dicono, intrapresa da Renzi? Innanzitutto bisogna dire una cosa, qua stiamo parlando di cose molto serie, si sta parlando di sicurezza della Repubblica, si sta giocando anche con i sentimenti dei familiari delle vittime. Renzi credo che qui debba ancora studiare molto. La prima gaffa la fece con Leni, ricordiamola a tutti. Renzi dichiarò proprio qualche settimana fa che Leni era un pezzo dell'intelligenza italiana, dei servizi segreti e a mio avviso, in qualità anche di membro del Copasir, abbiamo fatto pressione per farlo venire subito ad udire in comitato, affinché spieghi queste sue gravissime parole. Perché lui che dovrebbe garantire la sicurezza della Repubblica non ha fatto altro che mettere a rischio chi invece lavora, penso a tutti quei tecnici, un ingegnere, penso a quei colleghi ingegneri, dalle quali ha avuto anche telefonate che sono in quei paesi politicamente instabili e quindi ha creato un po' di scompiglio queste dichiarazioni e ancora non le ha né ritrattate né ha dato spiegazioni se è vero o se è falso. Non si è capito se Eni fa parte dei servizi segreti italiani o meno. Io credo che Renzi stia giocando con il popolo italiano, non si può ad esempio, faccio l'esempio del DEF, riassumerono i 15-14 tweet, poche ore fa ho visto il suo ultimo tweet che riguardava proprio questo argomento e già ritrattava quanto dichiarato da lui sabato a Repubblica, in quel caso aveva parlato di desecretazione, ma per legge è assolutamente una cosa falsa, lo sappiamo che non c'è il segreto di Stato, qua si sta parlando di stragi, quindi parliamo di altre carte di esposizione dei magistrati, per cui una bufala incredibile di Renzi che la spara grossa, non so, forse per ottenere voti per questi europei. Oggi ho letto, pochi minuti fa ho letto l'ultimo tweet e infatti già ritrattava e parlava di declassificazione. Io ripeto, credo che Renzi per quanto riguarda l'intelligence debba un po' approfondire questi argomenti, quella che è la legge 124 del 2007, quella che è sui beni culturali del 2008, che regola gli archivi, perché poi bisogna fare attenzione agli archivi, perché c'è un archivio di Stato accessibile a tutti, che hanno dichiarato oggi, c'è poi un archivio storico che non è accessibile a tutti, non è accessibile nemmeno ai parlamentari, è accessibile a noi dieci membri del Copa, si relisce tutta altra regola, quindi c'è un segreto di Stato che va 15 più 15 fino a 30 anni, c'è poi un regolamento, dei decreti attuativi 2011, dell'archivio storico, dove addirittura le carte vengono tenute per 40 anni, per 50 anni, addirittura fino a 70 anni in alcuni casi. Allora, è vero, è vero? Ad oggi non è stato fatto nulla, diciamolo. Ecco, ma non è da prendere anche come è vero che c'è una massa di carte, spesso anche nascoste, documenti, e questo ahimè è vero, ma è pur vero che potrebbe essere l'inizio di un percorso, non magari che potrà portare alla verità con la V maiuscola, ma declassificare ciò che non è segreto, ma che comunque è bollato come riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo, di molti documenti possa aiutare a sapere qualcosa di più di alcuni di quegli avvenimenti tragici della nostra Repubblica? Io credo proprio di no. Può aiutare sicuramente a diffondere la cultura del sapere per specialisti, per appassionati, ma queste carte sono già a disposizione di chi doveva garantire queste cose. Io vi faccio l'esempio di un caso al quale mi sono legato molto, è quello di Ilaria Alpi e Rovati, in quel caso lì, dove abbiamo commemorato proprio qualche tempo fa qui in aula, ebbene lì si parla di 8.000 fascicoli, anche lì in aula il governo disse di avviare subito la desecretazione, in realtà si tratta solamente di 152 fascicoli su 8.000. Poi bisogna anche capire come funzionano questi archivi, come vengono messi questi fascicoli all'interno dell'archivio, quali sono le parole chiave da ricercare. Adesso con la nuova legge si sta passando una digitalizzazione di tutto il materiale che sicuramente aiuterà anche noi che ci lavoriamo, però non bisogna prendere in giro gli italiani, ripeto, giocare con i sentimenti dei familiari delle vittime, perché poi in queste carte, io ripeto, sto seguendo molto quello di Ilaria Alpi e Rovati, parliamo di 152 su 8.000 fascicoli, per cui nulla, per cui praticamente nulla, anche quel cazzo lì, lo disse in aula, non è stato fatto nulla, ci furono proclami da parte del governo di desecretazione, stessa cosa che è stata fatta adesso. Io ripeto, non si parla di desecretazione, ma declassificazione, che Renzi vada a studiare un po' queste cose. Come tu avrai fattuitato il premier? L'intelligence non è un tweet. Grazie, grazie. Grazie a Angelo Toffolo, Movimento 5 Stelle. Grazie a lei. Non lasciamo il copasi, però.